Però poi siamo in Monaco, abbiamo voglia di non mollare fino alla fine, abbiamo stimoli, sappiamo che è vero, ci sono delle probabilità negative, ma ce ne sono anche positive. Noi faremo il nostro e vedremo quello che succederà. Se non dovesse andare, ovviamente in Ligan daremo il massimo come ovviamente se dovesse andare. Noi vogliamo puntare su più fronti al di là del risultato di domani sera. Poi clesso, centrale, vuodù, calcia! E fa gol, e fa gol. Kenny arriva dentro, la valla è perfetta, Kenny non è di rigore, c'è dietro per Mieders, servito, Vissam! Per l'1-1! Votorino a destra, la valla è perfetta per la corsa di Jenson Martins, che può volarsi di fronte al portiere. Jenson, calcia in porta! Jenson Martins, rivolta del Monaco, in mezz'ora, è già 2-1. L'idea è finita, finisce qui! Vince il Monaco! Vince! All'Apa Stadion esulta il settore ospiti. Abbiamo fatto il nostro e 45 minuti fa, anche il Mid-Inland stava facendo il suo. Vediamo adesso. Ragazzi, siamo ai sedicesimi! Siamo ai sedicesimi! Credo per la sconfitta, addirittura, della Rapid. In casa contro il Mid-Inland per 2-1. Incredibile! Incredibile! Un finale al cardiopalma di un girone non gestito bene, ma siamo passati noi e ci andiamo a giocare la seconda parte, la delineazione diretta dell'Europa League. Dai, è così! E affronteremo l'Ajax, tra l'altro. Affronteremo l'Ajax. È stato già sorteggiato, è andata in casa, ritorno alla Johan Cruyff Arena. Insomma, è già un match di livello, non ci ha detto benissimo nel sorteggio, ma è un match d'Europa League, è un match di quelli che ci piacciono. È tosta! Sarà Monaco contro Ajax. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale con un nuovo, un nuovissimo episodio di carriera dopo l'ultimo emozionante al cardiopalma nelle quale abbiamo giocato contro la Z, qualificandoci all'ultimo respiro praticamente del girone per i sedicesimi di finale dove affronteremo, vi ricordo, l'Ajax, quindi sarà una bella doppia sfida contro gli olandesi. Oggi torniamo perché dobbiamo pensare al presente e quindi significa pensare intanto al Paris Saint Germain che sarà il primo avversario di questo episodio, poi a chiudere il mese di dicembre e a fare calciomercato, quindi sarà un episodio molto ricco e dispendioso. A proposito di calciomercato vi ricordo che abbiamo già preso Ken in prestito, quindi quello è già un tema interessante. Come sempre però prima di partire vi ricordo un po' di cose importanti. La prima è che sono come sempre in live sulla piattaforma Viola che vi lascio qui sotto in descrizione, quindi seguitemi per rimanere aggiornati su tutto. Come fate a sapere quando sono live? Mi seguite su Instagram, molto semplice, io vi aggiorno su questo e molte altre cose come delle cronache e tutto il resto. Altra cosa molto importante da ricordarvi prima di partire è il sito di maglie col quale collaboro, sul quale ho preso questa maglia ma anche molte altre, che vi lascio in descrizione. Prodotti di qualità, tanto per cominciare, a basso prezzo, per continuare e per concludere con il mio coupon, c'è anche un ulteriore sconto che leggete a schermo. Vi mostro altre due maglie che sono entrambe di Francesco Totti. Una, Mondiale 2006. Non so se ve l'avevo già fatta vedere, forse è proprio sulla piattaforma Viola, però è molto 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 bella. Tra tessuto e vestibilità l'ho messa e mi sentivo un campione del mondo. Ok, stronzate a parte, vi mostro anche un'altra che francamente adoro perché è la versione Champions League della Roma scudettata. Stagione 2001-2002. Altra maglia di Totti, le trovate, come detto, perché insomma ci sono anche quelle storiche oltre che quelle recenti di quest'anno, come per esempio questa delle Monaco, ma ovviamente trovate anche tute e ve le ho mostrate in altri video. Detto questo, mettetevi comodi perché partiamo con l'episodio. Questa partita ci ha fatto prima volare, come nel caso della finale di Coppa di Francia, poi tornare con i piedi per terra, come nel caso della Supercoppa. Oggi è la sfida che vogliamo utilizzare per riconfermarci sempre di più in lotta Champions e magari anche al vertice della Ligue 1, che è questa qui. Conducono loro con 38 punti, noi siamo a 32, loro primi noi quarti alla fine del girone d'andata, che come l'anno scorso è stato agrodolce, alti e bassi, comunque più alti che bassi perché siamo al quarto posto. Abbiamo noi il miglior attacco in Ligue 1 e loro la miglior difesa. Insomma ci sono tutti i presupposti per una grande, grandissima sfida. Siamo a lui due. E' semplicemente Monaco-Paris Saint-Germain. Ganaghei. Neymar un po' solo, petto e poi al volo il tocco Bergoresca. Dentro un bappé, limite, lo contiene Ayer, apertura sulla destra, Lecomte. Dice no a Di Maria. Attacca il Paris, fa la partita. Noi dobbiamo stare concentrati. Un titi. Serve Ganaghei che alza sul secondo palo per Neymar. Che porta avanti il Paris. Anche di testa Neymar. 1 a 0 al 32esimo. Tutto troppo semplice però per il Paris Saint-Germain. Perché lì la Monaco è rimasto un po' a guardare. Su questo pallone, sul cross di Ganaghei, sul colpo di testa del 10. Aguilar, rivedibile. Gelson. Occhio al taglio di Benieder, servito in profondità. Preso il tempo Vissam. E dietro Kerrer. E dentro Martins. Aspetta Vissam, poi il tocco. È ottimo per Martins! L'assist di Benieder. Il gol. Come in Europa League lo fa il numero 11. 1 a 1. Al 38esimo. Al primo tiro in porta del Monaco. Arriva subito. Il gol del Paris. La reazione d'orgoglio. L'assist del capitano. Andiamo a aspettarli a ripartire. Richarlison. Cerca un corridoio per Mbappé. Prova a contenerlo Chouameni. Superato. Occhio a Mbappé. Dentro il pallone. E ancora avanti il Paris. Tutto regolare. Ha segnato Richarlison. E esplosa la partita. E non mi sorprende perché quando giochiamo contro di loro c'è sempre tanto spettacolo. Goretzka. In teoria è finito il minuto di recupero. Chiude l'attacco il Paris. Mbappé gira. Intercettato il lancio. C'è Barreca. Fischia l'arbitro. Finisce il primo tempo. E finisce con il Paris. Avanti. 2 a 1. Sono forti. Considerazione iniziale. Ma poi bisogna aggiungere un altro aspetto. E l'altro aspetto è che hanno dei limiti. Soprattutto sulle corsie. Se siamo bravi a sfruttarli, io credo che si possa ribaltare. E ci proveremo con questi cambi. 4-2-3-1 rispetto al 4-3-3 iniziale. Con Draxler dietro a Ben Yedder. Quadrado alto per la prima volta in stagione. Martins a sinistra. Fuori. Onyekuru. Barreca. Occhio al movimento verticale di Ben Yedder. Altissimo il Paris. Che non copre mai sulle corsie. Occhio al capitano che punta Matip. Gli rientra. Ben Yedder. Zona tiro. Ben Yedder chiuso. Dal ritorno di Kerrer. Kenny da Jelson. Subito per Ben Yedder che può riprendere il tempo a Matip. Vediamo se va. Va Ben Yedder. Serve un compagno in appoggio. Si apre il Paris. Fino in fondo. Ben Yedder addosso a Navas. Lo squillo del capitano. Allora di gioco. Neymar. Gli ritorno. Il pallone per Riccardi. Appena entrato. Cerca spazio. Ayer. Gli cancella i sogni di Gloria. McCann y Florentino. Sì per Draxler. Su Ben Yedder. Che però deve portare avanti questo pallone. Sta partendo senza palla Draxler. A destra anche Quadrado. Che però non fa troppo movimento. Ora sì. E quindi il pallone è per lui. Vediamo se va il colombiano. Che cerca le finte. Compagno in appoggio. C'è Ben Yedder. Dentro Draxler. Occhio al capitano. Che va in porta. Navas. Duello tra i due. Angolo. Per il Monaco. Goretzka. Sbaglia il lancio. Aguilar ringrazia. Quadrado gira. Draxler può guardare Ben Yedder. Riguarda pure Quadrado. Che corre. A 300 all'ora. In area di rigore. Quadrado. Sul fondo. Sul fondo. Disturbato al momento del destro. Chiude in possesso il Paris. Che può anche ripartire per l'ultima azione con Icardi. Torna Ayer. Arriva il affischio. Ed è quello finale. Ha vinto il Paris Saint-Germain. Ha vinto 2-1. Peccato perché nel secondo tempo abbiamo avuto tante, tante, tante occasioni. E questa non è una novità. Non è un qualcosa che mi sorprende. Così come non mi sorprende il fatto che dietro qualche lacuna ci sia. Ovvio che poi quando giochi contro il Paris Saint-Germain spicca tutto maggiormente. E oggi però i punti persi fanno più male di quello che sembra ragazzi sapete. Perché se guardiamo la classifica prima di questa partita vincendo avremmo potuto accorciare di brutto. E invece adesso rimaniamo distanti. Non troppo dalla zona Champions che poi è il nostro obiettivo. E ricominceremo a correre proprio dalla prossima gara. Che sarà quella in casa del Sant'Etienne. Benidere a caccia del quindicesimo gol in campionato. Sarebbero tantissimi alla fine del girone d'andata. È chiaro che non sarebbe sui livelli dell'anno scorso, sui ritmi dell'anno scorso. Ma erano assurdi all'epoca. Illegali o meglio. E chiaramente irripetibili. McTominay. West McKennie. Sterza e apre. Ture. Occhio che gli porta via l'uomo di Sharawi. Quindi il tocco è per McKennie. Dentro Gianca Benidere. Servito in area. Destro. Divi Sam. Che trova il quindicesimo gol in campionato. E siamo solo nel girone d'andata. Sono 19 stagionali. Perché bisogna contare i quattro in Europa League. Numeri da Marziano. Non come l'anno scorso. Ma comunque da Marziano. 1-0. In corso da McKennie. Che recupera un grande pallone e vuole ripartire. Sempre West. Wenzel Holt di ritorno. Manda in porta McKennie. Che va di sinistro. Vabbè ma è una sentenza McKennie. Sottoporta è una sentenza McKennie. Per gli avversari però. Cambia lato. Ancora su Aguilar. Si chiude il Sant'Etienne. Allora noi facciamo possesso. Ora verticale il pallone per Celso. Che può giocarla dentro. Perché ci sarebbe Wenzel Holt. Che segna. Incredibilmente. Papera difensiva del Sant'Etienne. E l'Australiano. Fa 2-0. Il più facile. Dei suoi gol in stagione. E' il gol della sicurezza. E' il gol. Della ripartenza. Dopo il pareggio di Marsiglia. E la sconfitta contro il Paris. Sabin gira per Olunga. E va dentro Sabin. Olunga trova spazio. In buca. E segna il Sant'Etienne. Con Aissatier. Io non voglio immaginare. Non voglio immaginare. Se non avessero fatto quella papera. Prendere gol così. Coloro che si fomentano al novantesimo. Non voglio immaginare. E finisce qui. Con il Monaco che vince. Sul campo del Sant'Etienne. Finisce il girone d'andata. Ma finisce anche il 2021. E' stato un 2021 elettrizzante. Più positivo del 2020. Senza dubbio per il Monaco. Che ha trovato una qualificazione in Europa League. Passando dal campionato. Con una parte finale di stagione emozionante. Con i 50 gol di Vissam Ben Yedder. Con quella finale di Coppa Italia. Di cui parlavamo precedentemente. Vinta contro il Paris. Poi ci sono stati i momenti meno belli. Aggiungo tra l'altro i momenti invece belli. Il passaggio ai sedicesimi. Di finale di Europa League. Affronteremo l'Ajax nel 2022. Che adesso iniziamo. E lo iniziamo. Salutando subito Moise Ken. Che è il primo arrivo. Ma ora guardiamo un attimo la rosa. E capiamo cosa sistemare. Tra l'altro è un girone d'andata. Che ci permette di chiudere a meno uno dal nostro obiettivo. Quindi abbiamo sostanzialmente altre 19 partite. Per fare un punto. Virtualmente in realtà. Perché poi bisognerebbe farne più di uno. Bisognerebbe stare più tranquilli. Ma siamo lì. Questo è importante. Questa invece è la rosa. Parliamo di chi ci ha convinto e chi no. Allora arriverà Ken. E presumibilmente cominceremo ri. Cominceremo a fare 4-2-2-2. Con le due punte Ken Ben Yeder. E con Majoral e il buon Wenzel Hulz. Pronti a subentrare. Chi non ci ha convinto. Quadrado per esempio. Ma anche il Sharawi. Che io adoro come calciatore. Ma non ha mai fatto la differenza nel giro d'andata. Bene per Schcaren. Anche se sta rientrando da un infortunio. Draxler può comunque essere utile al progetto. È comunque arrivato a zero. Quindi va bene così. Onikuro e Martins sono le certezze. Bene McTominay. Così e così McKennie. Ma secondo me può esserci utile. Soprattutto perché non vorrei smantellare troppo la rosa. Nelle mercato di gennaio. Vi mostro i giocatori ai quali ho pensato. Questi sono i calciatori che ho inserito. Per questa finestra di mercato invernale. Allora non tutti. Ovviamente hanno la stessa priorità. Non tutti sono fattibili. Perché adesso ve li spiego. Andiamo con ordine. Intanto ho pensato all'attaccante. Perché soprattutto se giochiamo con le due punte. Ci serve qualcuno che entri dalla panchina e faccia bene. E Wenzel Holtz ci piace. Sta crescendo. Però io Boadu un po' come provocazione l'ho inserito. E questo magari lo porteremo avanti nel prossimo episodio. Quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti. Perché è bancato? Diciamocelo chiaramente. L'abbiamo visto contro di noi. Mi piaceva l'idea del... Ci ha messo in difficoltà. Quindi lo compriamo. È una cosa che mi avete fatto notare. Fanno in molte squadre. E poi soprattutto Ken arriva. Ma non sappiamo se poi si meriterà il posto da titolare. E quindi ho pensato a Wadu. Poi voi mi direte c'è Wenzel Holtz. Quindi non lo so. Ditemi voi. Passiamo al secondo. Questo non so quanto sia fattibile. Perché ho pensato a un terzino di sinistra. In particolar modo. Non a un esterno alto. C'è Tourette o c'è Barreca. Quindi qui io l'ho inserito per farvi capire. Guardate. Del Reyro lo vorrei. Però anche qui non c'è troppa priorità. Più andiamo in basso più ci sono invece priorità. Uno è Maxi Man. Perché l'ho detto. Non mi ha convinto per niente il Sharawi. Quindi se prendiamo Maxi Man lo facciamo giocare largo a sinistra. E ho anche pensato che noi se prendiamo uno su quella corsia. O è per forza di cose uno più scarso di Oniekuru. Oppure uno che può rubargli il posto. Perché no. Che lo faccia ripetere ogni tanto. Ma che comunque insomma parte per fare il titolare. Quindi più che Maxi Man forse c'è il nino Maraviglia. Perché se noi prendiamo Sanchez. Che è un giocatore comunque molto esperto. 33 anni. Non lo prendiamo per il futuro. Per il futuro c'è già Oniekuru. Però hai un rincalzo da quella parte. Magari. Soprattutto su FIFA. Più forte di il Sharawi. Che possa. Che possa darci una mano. Quindi su di lui andrei subito. E poi i terzini di destra. Perché insomma qualcosina non ci convince. Quindi il primo è Alessandro Florenzi. Che a me piace tantissimo. Che su FIFA. Può essere un rincalzo interessantissimo. Non è più al Paris Saint Germain. Ma all'Everkusen. Ed è lì dal 2021. Quindi adesso non so se poterlo prendere. Non so se l'hanno ceduto a gennaio della passata stagione. O a giugno. Quindi ora devo un attimo capire. In alternativa Odrio Zola. Che voglio dire. Su FIFA è sempre titolare alla Real Madrid. Dopo un po' di tempo. Quindi mi sono detto. Sarà forte questo ragazzo. Perché per il resto di terzini destri. I fattibili ma forti. Non me ne vengono tanti. Partirei proprio dal nigno. Perché onestamente ho. Ho più una perversione su di lui. Rispetto a Maxi Man. Che prendemmo. Non so se vi ricordate. A Livorno su FIFA 15. Però. Dentro con Sanchez. Perché c'è quel ragionamento che vi facevo. Esperienza e gioventù. Marconi e Conte. Anche se poi io dovrei ridisegnare il mio personaggio. Ma questa è un'altra storia. Io ragazzi lo propongo subito lo scambio. E lo propongo con Stefano e il Ciarawi. Oddio non lo so se proporre lo scambio con il Ciarawi però. Perché costa di più. E quindi. Non so quanto ci guadagniamo. Non sarebbe un grande affare. Sarebbe meglio piuttosto prendere il Ciarawi. E provare a prendere lui. Perché lì ci dice 12 milioni. Io provo subito a fare offerta per il cartellino. Appunto a 10. Vediamo un po'. Ma loro dicono che il minimo è 11. A questo punto ragazzi. Io posso no. Scusate. Andare ad accettare. Perché comunque erano 12. Siamo scesi a 11. Non è. Non è proprio un prezzo esorbitante. Per un 33enne. Che però signori secondo me in prospettiva può darci tanto. Mi piace alternare. Lo sapete questi affari. Giovani. Esperti. E uno come Sanchez secondo me può portare tanta esperienza. Perché poi è uno che ha vinto lui. In giro per il mondo. E quindi è quello che ci serve per la seconda parte di stagione. L'Europa League. E la corsa alla Champions. Trattiamo col nigno maraviglia. E lui già vuole un ruolo per il turnover. Un qualcosa che a me francamente piace. Va bene. Perché arriva con le aspettative basse. E queste sono le richieste che fanno per l'ingaggio. Quindi come al solito le rivediamo per forza. Perché qui non ci chiedono nessun bonus se non il bonus ingaggio. Non ci ha chiesto tantissimo eh. Si ridurrebbe anche lo stipendio pur di venire qua. Ragazzi Sanchez tanta roba. Tanta roba. Io accetto. Accetto senza problemi. Quindi preso e nigno maraviglia. Quindi adesso andrei su Florenzi. E vediamo un po' se riusciamo a portarci a casa anche. Bello de nonna. Però sapete che non so. E qui vado subito a rischiarmela. Se possiamo. Si possiamo trattare. Nonostante sia dal 2021. Perché comunque ormai è 2022. Ci possiamo provare. E qui io ci penso allo scambio eh. Perché lui vale 22. Noi abbiamo 13. Quindi direi che lo scambio è saggio. È saggio in questo momento. E se ti metto. Stefano El Sharawi. Secondo me. Lui è 29. Secondo me il Leverkusen ci pensa. Avanza offerta. Vediamo un po'. Vogliono vendere Florenzi ma non gli interessa nessuna contropartita. Allora il fatto che lo vogliono vendere a me piace. Pensavano di più a un'offerta di 30 milioni. Che noi non abbiamo però. Quindi contro offerta per forza. Non vogliono contropartire. E qui un po' ci tagliano le gambe. Ok per il momento. Per il momento termina trattativa. Per il momento. Per il momento. No. Mister. Non è che la mia valutazione di Florenzi è quella lì volendo. Però non diciamo cose. Perché sennò poi chiudiamo le porte. Quindi momentaneamente non ci siamo riusciti. Lo togliamo da qui. Ma ci torniamo. Perché dobbiamo sistemare qualcosa. E quando dico qualcosa mi riferisco alle uscite. In particolar modo direi El Sharawi. E forse anche Quadrado. Tra l'altro Quadrado non possiamo metterlo in vendita. Probabilmente perché è arrivato da poco tempo. E io ho paura che questa problematica ci sia anche per El Sharawi. Sì. Non possiamo cedere neanche lui. Dobbiamo scambiarlo per forza. E questo in chiave Florenzi diventa un problema incredibile. Ora però abbiamo un problema ragazzi. Perché ripeto. Quadrado e il buon El Sharawi per me sono in partenza. Il problema è che non vogliono per Florenzi degli scambi. E l'unico giocatore che realmente ci serve adesso. Secondo il mio punto di vista. Oltre a Sanchez e Kenne che abbiamo già preso. E per l'appunto l'ex romanista. Quindi dobbiamo pensare un attimo a cosa fare. È la prima del nuovo anno. È la prima per Moise Kenne e per Alexi Sanchez. In campo. Dijon e Monaco. Per la ventesima giornata. Il giro di Boa. La prima del girone di ritorno. Schuomeni. Dal 2. Si muove Kenne che vuole toccare il suo primo pallone in maglia Monaco. Eccolo qui Moise. Che guarda anche la porta. Cerca di calciare a giro. E non è andato lontanissimo dal bersaglio. Primo squillo di Moise Kenne. Che apre su Touré. Si muove ancora Kenne al limite. Servito Moise. Vicino Benieder. Vediamo se funziona il tandem. Servito Martins. Che movimento di Gelson. Assalè. E gol. Del Monaco. Fortunatissimo. Perché sul tocco di Assalè. C'è stato. O meglio di Alagbe. Pardon. C'è stato il difensore. A mettersi dentro. Palla da solo. Ma comunque. Bella azione della Monaco. Sta salendo a sinistra Touré. C'è movimento di Kenne. Palla sui piedi. Riparte Touré. Parte anche Benieder. Visto e mandato il capitano. Occhio a Bissam. In area. Defilato. Cerca il cross. E questa volta. È tutto di Martins. Il gol del 2 a 0. 16 minuti. Di spettacolo Monaco. Siamo ripartiti alla grande. Con rabbia. Per il nuovo anno. E per il girone. Di ritorno. Vuole Benieder. E riparte Martins. Visto. E servito adesso. Vuole andare Martins. Dietro ancora per Bissam. C'è Ken dentro l'area. Palla per Moise. Che vuole proteggere. E stavolta è bravo e pure Anu. Perché ci mette la mano. Calcio di rigore Monaco. Al minuto. 53. Va Benieder. E non sono mai tranquillo. Quando li batte lui i rigori. Però è anche il miglior rigorista che abbiamo in squadra. È semplicemente il miglior giocatore. È quello. Che fa 3 a 0. Benieder ha visto a destra Vershkaren. E lo fa correre. Con Wenzel Holtz centrale. E altri compagni. Tra cui Benieder che si è riliberato. La palla è per il capitano. Fino in fondo. La porta sul destro. Lo prova. Sentenza. 4 a 0. Doppietta di Bissam. 17 in campionato. E finisce qui. Stravince. E la Monaco. 4 a 0. Sul campo del Dijon. Se il buongiorno si vede dal mattino. Fatemi stazzito che è meglio. Ogni volta lo dico poi porta male. Vittoria pesantissima tra l'altro. Perché come vedete. Siamo al terzo posto in classifica. Subito un sorpasso. Sul Lione. In questo caso. Ripartiremo da qui. Con questa classifica. E con questa partita. NIM contro Monaco. Con tanto mercato. Perché non vi ho fatto una domanda diretta. Adesso. Cioè non ve la farò. Ma ve l'ho fatta in tutto l'episodio. Quindi avendolo seguito. Sapete cosa rispondere. Grazie. Per aver seguito questo episodio. Anzi. Anzi. Sappiate. Se siete arrivati a questo punto del video. Non vi chiedo di commentare con un hashtag. Come al solito. Ma vi do uno spoiler. O meglio. Un'informazione. Perché la prossima settimana. Torna la serie. In cui racconto le vostre carriere. Su Instagram. Vi ho chiesto di raccontarmele. Quindi la sto scegliendo. La sto raccontando. E prossimamente arriverà. Un bacione. Never give up. E bella regà. Ciao.